Io sono Claudia Dosvaldi e faccio parte di Made da Franco, siamo una cooperativa di Prato che fa servizi per la promozione e la valorizzazione dell'artigianato. Abbiamo partecipato al progetto di Riversibility cercando di portare un nostro progetto in collaborazione con delle aziende artigiane e vorremmo realizzare dell'arredo urbano e interno a container e una data segnaletica stradale per il parco fluviale in collaborazione con le aziende artigiane, quindi un arredo urbano che sia in continuo dialogo con il parco, con gli elementi container, con la segnaletica e che quindi possa dare un'esperienza più completa di tutto il parco fluviale. Le nostre impressioni sul progetto, su questo percorso di Riversibility sono molto positive perché c'è stato un grande coinvolgimento di associazioni e di cittadini comuni della città e che hanno portato tutte le loro idee, le loro proposte che sono sicuramente valide e importanti perché sono composte di cittadini che conoscono davvero il territorio e che quindi sicuramente porteranno un valore aggiunto a tutto il progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!